L'accusa di essere responsabili di alcuni furti messi a segno in attività commerciali e studi professionali sul fine dello scorso anno sono due cittadini romeni da tempo residenti in città. Gli imputati che ne rispondono sono a giudizio, mentre un'eccezione preliminare avanzata dalle difese ha indotto il giudice Evani Castro a valutare la riunione di due procedimenti attualmente in essere sempre nei confronti degli stessi imputati e per furti ricostruiti dagli inquirenti. Si procederà quindi con la riunione affinché possano essere trattati in maniera unitaria e davanti allo stesso giudice. I legali degli imputati, gli avvocati Francesco Nier e Nicoletta Cauchi, hanno illustrato le ragioni della richiesta. Gli inquirenti arrivarono ai due cittadini romeni ritenendoli responsabili dei furti attraverso l'analisi di elementi tecnici ma anche di immagini video. Le modalità delle azioni sono tutte analoghe, puntavano prevalentemente ad attività e studi professionali, così hanno ricostruito le forze dell'ordine che sono arrivati proprio ai due cittadini romeni ormai da tempo residenti in città e che hanno anche precedenti dello stesso tipo.